In questo momento io sono in Spagna, cioè sarai in Spagna, però non sono in Spagna, proprio niente, comunque sarebbe il tuo compleanno, cioè in realtà lo è, però io non ci sono e quindi auguroni, ti faccio tanti auguri, un bacione, te lo riguarderai e penserei che sarò una matta, che sono una matta, vabbè i verbi non sono il mio forte, comunque grazie mille a tutti, grazie a tutti, a chi no?